Buongiorno! Oggi vi saluto da Tocci Duda, famosissimi palazzi danzanti! Il pranzo arriva del fiume con cibo cieco! e la bolliccia è bellissima questo è Visegrad e questa è la chiesa di San Pietro e Paolo e oggi per coincidenza è l'onomastico di tutti Pietro e Paolo quindi buononomastico nonno Siamo ritornati in questo bellissimo parco dove al posto dei pesci in questo lago ci sono delle balene seriamente mi volete dire che questi sono pesci ma che sono delle balene colorate dipinte seriamente wow vieni qua mi concedi tre decideri come il pesciolino d'oro vero? si mi concedi 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 su su mi concedi mi concedi mi concedi concedi mi concedi su mi concedi mi concedi mi concedi